Allora, noi potremmo fare un mega film qua per far ricordare quanto è importante all'uomo l'idea di pace, farcela ricordare. E la ricchezza che cos'è? Chi controlla il mondo? Gli americani con le armi, i cinesi? Siamo in una sorta di nuova tensione. Eh sì, la nuova tensione esiste già di per sé in questo universo. Beh, mettersi a lavorare con qualcuno sarebbe male per fare una pace, pace che non esiste. Beh, comunque mi sono trovato bene. Anche oggi sono soddisfatto dell'esperienza, di questa strana esperienza.